Nella top ten, anzi al primo posto su Netflix, troviamo Outer Banks. Outer Banks, non so se l'avete visto, ma nel primo episodio troviamo un'espressione molto particolare che è cash cow, cash cow, cash cow, andiamo a sentire. Total cash cow with the tourists. Ma iniziamo da capo, dice che la famiglia di lei è proprietaria di questo ristorante che si chiama The Wreck, è un'istituzione delle Outer Banks ed è una total cash cow for the tourists. Vuol dire che è una gallina dalle uova d'oro, vuol dire che è una miniera d'oro. Quel ristorante ha molti profitti, quel ristorante fa molti soldi. Questo prodotto è sempre stato quello che ci ha fatto fare molti soldi, è una cash cow, è una miniera d'oro, è una gallina dalle uova d'oro. È qualcosa che ci fa fare molti soldi. In questo momento sta parlando di quel prodotto e basta. Magari ci sono altri prodotti che rendono molto meno, ma quello lì è una cash cow. Molto un'istituzione delle Arombe Phillip